4. 5. 5. 6. 10. 11. 13. 13. 14. Non capisci quello che dico, speak in English, no? Buonanotte. Oh my God, I can't believe it. Ti avrei riportato questa? My camera. Non importa, mio padre è un'altra. In ogni modo, grazie. Canadi, ci ce lo diamo un bacetto? Incredibile essere qui in questa famosa America. E dove va adesso? Ti sarei venuto a trovare, come infatti ti pronunciai tramite posta elettronica, e-mail. Oh my God. Eh, aspetta un momento. Minchia, sono pazzi in questa casa. Oh my God. Oh my God. Oh no. Oh no. Oh no. No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! This is a friend of Sally's from Italy. His name is Tonino. Welcome, Tonino. Nice to meet you, Mr. Garfield. So, Tony. It's Tonino. Tonino. Is this your first time in the United States? Yes, first time. And how do you like it here? I asked if I like it. Mm-hmm. Yes, it is very beautiful, but cold. Not here, because there's a hot hot. But outside, cold, cold. Look at him. He looks like Aladdin. Sweetheart, stop bothering him. Cut it out, Jane. So, what part of Italy do you come from? He's from Sicily, but he studies in Rome. Rome. Rome, how beautiful. Wonderful. Yes, it is. A little traffic, but very interesting. The capital of Italy, you know. Ah, sure. Um, do you go to university there? Ah, sì. Um, university. Come si dice? Lettere. Liberal arts. Ah, liberals. Oh, that's interesting. Yes, very. Um, what are your job prospects? What I'm asking is, uh, how do you plan to use your liberal arts degree? E chi è di che lavoro fa dopo? Ah, io di lavoro dopo, boh, cioè, I like regia. Poi, però, boh, non lo so. I don't know. Regia. Yes, regia. What's regia? Cheese? Dai, come si dice? Direction. Oh, direction. Direction, honey. Direction. Hey. That's wonderful. What kind of direction? This is the question, infatti. Is he staying with us? I don't know him too, I guess so. I didn't expect him to come. Don't be rude, he's come all the way from Rome to see you. Oh, please, let's keep him here, he's so cute. Um, I would like to know, uh, exactly what your plans are for your trip. Chi è di tuo piano di questo viaggio? Piano in che senso, what did we are? Exactly. Ma, esattli, proprio, proprio, ed o no? I look around, disincrediboll' America, e poi, chi vivrà vedrà. Who will live, who will see, come si dice dalle nostre parti. Allora, I can go. Almeno dalle mie. Bello qui. Fare il tuo letto, no? Eh, certamente. Mi domandavo, in effetti, perché in quel clima di gentilezza e cooperazione tra culture diverse, proprio se, lì, invece, sembrava avercela con il sottoscritto. Persino suo zio Michael, che oltre a essere fratello del signor Garfield, e anche socio nello studio legale, che per l'appunto si chiama Garfield and Garfield come un duo di cantatori, fu veramente squisito. E fece anche lui un po' di conversazione con me, che agli americani gli piace questa cosa di fare conversazione. Is this your first time in the United States? Yes, first time, and it's cold outside, but here it's okay. And I go to university in Roma, the capital of Italy. A little traffic, but wonderful. Great! Yes. Michael.